La mia paura quando ho letto il mio personaggio è stata quella di non riuscire ad omaggiare in qualche modo la storia di questa ragazza. All'inizio avevo molta paura, le prime due settimane sono state critiche perché non sapevo come entrare dentro quest'anima Fininfo, è troppo fragile, non so come fare. E poi a un certo punto è stato un passaggio spontaneo, immediato, mi sono fidata di Andrea, dei ragazzi con cui lavoravo, del personaggio che è stato scritto. Interpretando questa cosa mi sono trovata proprio a medesimarmi, quindi nel senso per lei era una sofferenza, lo è stato anche per me di conseguenza. La mia paura era quella che magari entravo così tanto in empatia da non riuscire in questo mio obiettivo, cioè in quello di far vedere al pubblico che per Ludovic era giusto quello che stava facendo. Sente soltanto il suo mondo, ascolta soltanto se stessa e quindi di conseguenza anche io ascolta soltanto me stessa. Lei vive questa vita innanzitutto fondata sulla menzogna, respira l'aria di bugia da quando è piccola, vive in un contesto, cresce in un contesto con dei genitori in cui la verità non si respira mai e lei di conseguenza è una bugiarda cronica. Quindi probabilmente la spinta più forte lei ce l'ha da questa ricerca quasi compulsiva nel trovare dei rapporti veri, autentici a cui legarsi. In questo vortice che veramente nell'adolescenza è un limite molto molto sottile, lei riesce a trovare uno sfogo, un rifugio all'interno del quale non si sente giudicata, non si sente di vivere in un'ipocrisia. È un personaggio comunque autolesionista e quindi si fa del male. Il suo modo di reagire a tutto è sempre imprevedibile. E lei prima di incontrare Ludovica non sa che cos'è, non ha mai visto l'amore dei genitori tra di loro, non ha mai provato amore per un ragazzo perché lei ha le relazioni perché nella vita si hanno delle relazioni non per un motivo vero e proprio, non perché lei provi qualcosa seriamente. Il mio personaggio con l'amore è sempre alla ricerca di amore, sempre alla ricerca di affetto, lo cerca in qualsiasi cosa e visto che ha paura di non trovarlo ha un forte scudo. A un certo punto preferisce farsi odiare che amare perché comunque quando una persona ricerca tanto una cosa poi ha anche la paura di non riceverla e lei piuttosto che vedere la freddezza nel mondo preferisce chiudersi nel suo mondo di supereroi e non affrontare questa paura fino in fondo. Contare fino a 3 prima di fare qualsiasi cosa? Però in realtà no, perché io adoro il fatto che Ludovica non ci pensa mai, capito, e che ne combina miliardi ma a volte questo combinarne la porta anche sulla strada giusta, scoprire le cose giuste, non lo so, secondo me devono continuare così come fanno di testa loro. di non aspettarsi che tutte le persone che lei incontra siano autentiche quanto lei.